Roseto, città delle rose, è tradizionalmente a forte vocazione turistica per il suo lungomare, le infrastrutture, la sua spiaggia. A proposito della spiaggia però, permane da troppo tempo l'incertezza del suo miglior utilizzo. Per questa regione, dopo le pesanti critiche di operatori turistici e balneatori che si sono visti rigettare suggerimenti e osservazioni e sono ancora in attesa di certezze e riferimenti, sabato mattina sono scesi in campo anche i politici dell'opposizione di centro-destra. Non si può mettere la testa sotto e amministrare a dispetto dei santi, quindi quando una categoria dà suggerimenti e non viene ascoltata, io penso che è il massimo dell'errore che un'amministrazione possa compiere. Solidarizzare con gli operatori turistico-balneari non basta, è tempo di essere decisi e drastici contro l'amministrazione comunale rosetana, immobile e sorda inspiegabilmente da troppi anni. Chiediamo che il tuo sito mi hanno fatto il balneatore e la regione intervende per mettere la parola fine a questa vicenda che sta creando tanti danni, non solo di immagini ma danni di teletere economico per la nostra città, che è l'unica città della provincia di Teramo, probabilmente della costa abruzzese, a non aver adeguato il proprio piano spiaggia dopo cinque anni alla legge regionale che prevedeva questo adeguamento. Il PDL rosetano non intende togliere competenze e autorità al Consiglio Comunale, ma la pazienza ha un limite, soprattutto quando in ballo ci sono gli interessi economici di un'importante categoria che produce ricchezza e crea lavoro, che in questi tempi di crisi dovrebbero avere diversa attenzione. Ci teniamo al lavoro del Consiglio Comunale, perché lo deve fare il Consiglio Comunale, però dopo quattro o cinque anni ormai è scaduto il tempo, quindi benvenga un commissario che riveda un po' la cosa.